No, veramente, Claudio, dai, non mi vado ad andare a ballare, è dai tempi del Gilda Young che mi vado in discoteca. Ma sai, ma non capisci niente, ti piace ancora la figa, sì? Sì che mi piace, ma che c'entra? E allora ti devi fidare, questo non c'entra niente col Gilda Young, è tutta un'altra cosa. Il Gilda Young andava bene per le prime tre scate, poi andavi all'Alien e lì magari una pipetta la rimediavi, poi da più grande al Goa te potevi guadagnare un boccaio. Ma il vero battesimo del fuoco, quello che ti cambia qua dentro, che ti fa passare da giovane Padawan a Cavaliere Jedi, è l'Erasmus Party. Ma che cazzo stai a dire? È la stessa cosa, solamente che manco parliamo la lingua. Ti ricordi Kikko? Kikko e il Pipparolo. Kikko e il Pipparolo, talvolta il Pippa, piccola variante, ma non divaghiamo. Tu sai quante se ne è fatte Kikko e il Pippa agli Oredemar? Quante se ne è fatte? Due. Sette. E il Pippa si è fatto sette pelli. Ma dai, su... Cosa che ha fatto il Pippa Ibiza? Eh, dieci pelli. Gang Bang vestito da personaggi di Game of Thrones. No, cla, sto giro veramente non me c'è in culi, non ci voglio andare in discoteca. Ma se non capisci niente, le straniere se gli offri tu birra e te se fionnero nelle mutande. Sono leggi matematiche studiate a tavolino da esperti. Te ancora hai perdito tempo a professore italiane. Va bene Claudio, va bene. Andiamo a questo cazzo di Erasmus Party. Però io te lo dico, eh, se vado un bianco paghi tutto te. L'entrata, la beve, la benzina, tutto, eh. Va bene, a giudicato. A posto. La beve, la beve. La beve. La beve. La beve. La beve. Grazie a tutti. Hi girl, what's up? Katio, mi sa che questo ce vuoi provare. Ma vedi un po' questo? Ma chi te se copra? Ma chi te se copri? Ah, ma vieni un po' qua che ce sta questo che ce sta provare. Dracarys. No, 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 no. No, 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 no. Grazie.